Abbiamo drenato le risorse facendo un paniere di 56 milioni di euro per le strade provinciali con una logica da gesto istituzionale solidale, una tantum, a favore della viabilità provinciale. Consapevoli, come sempre, che è lo Stato che deve finanziare le province. Io ho battagliato anche con Gentiloni, Laboschi, Del Rio, Lucalotti, De Vincenti, pretendendo in sede di conferenza dei presidenti e Stato-Regione che tornino coperture finanziarie per quanto riguarda le province. E credo che nella legge di stabilità compariranno 8-900 milioni per la prima volta dopo anni di tristezza finanziaria a favore della vita ordinaria delle province. Questi 56 milioni di euro seguiranno la consistenza dei drammi e dei guai che già sono stati rubricati sulle strade provinciali. 16 milioni alla provincia di Chieti perché è quella più danneggiata soprattutto con i grandi drammi dell'Alto Vastese. 15 milioni alla provincia di Teramo per i grandi problemi che ha nella Vallata del Fino, 14 milioni in provincia di Pescara per i drammi che ha nella zona della Vallata Vestina e 11 milioni alla provincia dell'Aquila poiché la provincia dell'Aquila è fortemente servita anche da una idonea rete stradale statale. Che si ingrandirà? Per esempio noi stiamo lavorando, avendo messo al primo posto nel nostro dossier, l'ulteriore inclusione della strada statale che deve essere assunta come tale ieri provinciale che porta a Scanno per l'altissimo rischio caduta massi che caratterizza la strada che porta a Scanno. Lo stesso lavoro lo faremo sulla Fossacesi a Lanciano e poi sulla strada della provincia di Teramo che da Silvi porta ad Atri e poi alla SS80. Annuncio in questa sede che noi abbiamo precisato anche le quantità e a che cosa serviranno questi fondi, non per fare nuove strade ma per risistemare e mettere in sicurezza quelle che ci sono. In Italia il codice della strada parla di circolazione in sicurezza.